Buonasera, sono Cecconi del Tg3, mi leggo al discorso sull'essere tassativi nel rispettare le misure. Vi voglio chiedere, ovviamente ci sono state delle indiscipline, ma molte persone escono di casa perché vanno a lavorare. In provincia di Brescia, di Bergamo, moltissime fabbriche che sono le più colpite, moltissime fabbriche sono rimaste aperte. Dunque mi chiedo se voi stiate chiedendo anche al Governo di rivedere i livelli di servizi essenziali oppure per esempio implementare servizi di distribuzione della spesa a casa anziché andare tutti al supermercato. Mi chiedo se da parte vostra ci sia anche questa richiesta al Governo, cioè di limitare gli spostamenti anche di chi va a lavorare, perché noi compresi siamo fuori non perché facciamo una passeggiata ma perché andiamo a lavorare. Allora io credo che bisogna limitare, come abbiamo detto, le misure che sono state adottate e limitano al massimo gli spostamenti. Ci sono delle esigenze che vanno assicurate, non possiamo certo garantire la fornitura della spesa a domicilio per tutti se qualcuno non esce per portare la spesa a domicilio. Quindi sono state previste limitazioni alle attività lavorative non essenziali ma ci sono tutte una serie di filiere come la filiera alimentare, la filiera dei servizi pubblici essenziali e dei servizi che devono essere garantite. Quindi credo che si siano adottate le misure massime che si potevano adottare, poi dopodiché verrebbe la chiusura totale del Paese. Ma mi domando come vivremo, come potremmo sostenerci se non usciamo a fare la spesa, se non arrivano nei supermercati, non arrivano i generi alimentari e quant'altro. Non so se vuole aggiungere qualcosa il Presidente. Io credo che dal punto di vista tecnico scientifico il punto chiave è il distanziamento che va rispettato in tutte le fasi e questo è un elemento anche nei luoghi di lavoro, anche con delle condizioni che si devono garantire. Questo è l'elemento più importante, il distanziamento è l'elemento chiave di questa battaglia. Io credo che si possa poi fare altri tipi di riflessione però certamente mi sento di ribadire questo elemento. L'altro forse elemento che possiamo aggiungere è che siamo in una fase in cui la curva cresce e dobbiamo vedere fondamentalmente i provvedimenti dell'11 marzo, sono stati provvedimenti che hanno esteso a tutto il Paese in una situazione di restringimenti molto forti sostanzialmente. Vedremo anche nei prossimi giorni questo tipo dell'impatto di queste misure, però ripeto l'impatto sarà attenuato se i comportamenti non consapevoli, non sufficientemente chiari e decisi o le vie di fuga, magari le scammotage per cercare di bypassare un vincolo non sono la soluzione, non sono una furbata, sono un problema per tutti e soprattutto, ribadisco per le persone. Grazie a tutti.